Io vi ho detto che questo era un partito abbastanza aburrido, non battagliato, non era un partito, mi equivoqué completamente perché in realtà era un partito. Tengo che dire, prima di parlare del partito, che questo terzo luogo, sin dubbio, se lo merece Canadà e non Uruguai. Uruguai gano solamente per una grande megagalattica ingenuità, diciamo anche stupidezza, per parte del Canadà e per parte del entrenatore, che quando tu stai giocando 2 a 1 e faltava 2-3 minuti perché già stavano nei minuti extra, perché di fatto Luiz Suárez mette il gol al minuto 92, avevano dato 5 minuti extra, quindi faltavano 3 minuti, 3 minuti e Uruguai logrò mettere il gol per una defensa che già l'avevo detto nel altro video, Io credo che il canadà, per tentare di preoccuparsi più del attacco e non della defensa, ha una defensa che è un po' stérile, non è molto stabile. A volte defende, però molte volte non, e in molte volte è facile per l'avversario sorprendere al canadà con un controcampo, e allì è molto facile mettere il gol, perché a volte si trova solo uno o due difensori. Il gol che mette Suárez è un gol praticamente elementare, Uruguai non è nulla, nulla di genio, nulla di chi sape qual dribbling, è solo, esclusivamente, una ingenuità del canadà che non si preoccupò di cerrar in tempo. Dico, quando tu vedi che l'avversario sta per inganciare il ballone, allì avevano che correre tutti attrassi. Però, questo in generale, perché quando tu stai ganando 2 a 1 in una finale di Coppa America per il terzo e quarto lugar, e faltano 3 minuti, faltavano 3 minuti, dico sono 3, non è che hai che sperare molto, 3 minuti, stai ganando, hai già il partito in mano, il canadà allì aveva di fare catenaggio. e poi, se ti presenta l'opportunità di fare il controcampo al avversario, facci un'azione e vedi se puoi metter anche il terzo gol. De hecho, il canadà è stato cercato, in varie volte, per mettere anche il terzo gol. Però, no, una defensa che non stava, molto ingenua, molto stupida, quando faltano 3 minuti, stai ganando, non ti preoccupi di cuidare la tua porteria. Allì hai bisogno di mettere tutto, non dico che giochi a fuerti, ma quando tu vedi che il avversario può aggare il ballone, già tutti hanno bisogno di regresare, tutto l'equipo, niente 4 o 5, tutto l'equipo, e andando 3 contra 1, pressionando, cerrando. De questa maniera, ovviamente, quando tu logras desmarcare il avversario, tiras il ballonazzo attra, si logras enganchare un ballone, haci anche un controcampo, tu, per vedere se puoi metter il terzo gol, e in poco tempo, passavano i 3 minuti, il canadà era campione del terzo lugar di questa Coppa America. E per ingenuità, molta ingenuità, che il canadà si perde questo trofeo. Il canadà, che va detto che è un equippo chico, chiquissimo, che si ha affrontato per la tercera volta in questa Coppa America frente a 3 partiti con equippi fuerti, è dire, 2 volte con Argentina e questa volta con Uruguai. Un equippo che ha problemi a definire, un equippo che ha problemi a cercare la defenza, ha alcuni problemi, però per il resto, ha futbolisti che smarca, smarca, smarca super bene, e facendo buoni passi. De verità, un equipazzo canadà. il canadà, per essere un equippo chico, lo ha sboffettato a Uruguai. Il canadà, per me, ha affrontato a Uruguai, lo ha dimostrato. Tu sei un gigante, noi siamo piccoli, abbiamo fatto un culo quanto una casa. Il canadà le rompì il culo a Uruguai, se lo affrontò, perché si ha visto che Uruguai, a l'ora che il canadà accelerava un po', stava in crisi. E questa volta, stiamo parlando della tercera volta che il canadà si affronta con un equippo fuerti. Tercera volta, due volte con l'Argentina e una con l'Uruguai. E già sta consolidato. Questo equippo è sì un equipazzo. Le falta definire, le falta migriorare, le falta essere un pochino più astuto, le falta questo, però per il resto è un equipazzo. E questo, e questo che hanno questi problemi, di lo contrario, a Uruguai, le avranno, loro avranno goleato a Uruguai. se il canadà fosse più capace di definire, se il canadà fosse più preciso, in pressare e difendere bene la porteria, il canadà potrebbe goleare a Uruguai. l'avranno potuto. Il canadà va detto, è la prima volta che arriva a una finale, è la prima volta che logra questo risultato, è un equippo destinato, sì, ovviamente, segue il processo di una grande scuola di fottobolo. questo paese sta destinato a essere in futuro un grandissimo equippo, un grandissimo equipazzo. Tengo che dire che Uruguai, come Argentina, non stanno crescendo molto fottobolisticamente, credo che, perché si creano molto, sono molto esaltati, si creano dios in cielo e in terra, gli altri humilmente costruengono, studiano e vanno subendo. Llegarà un giorno che molti equipi che sono piccoli, arriveranno ad alti livelli. Il canadà, lo ripeto, avrebbero dovuto guanare plenamente, davvero fantastico il canadà, quello che ha fatto oggi, e che giocati, che dribbling, frente a avversari che sono mostri, e i nostri piccoli, come David contro Goliat. Questo è tutto, lo vedo per altri video, caproni e cingoni. Ciao, alla prossima!